buonasera a tutti dal vostro grande capitano napoli e benvenuti in questo video appena terminato belgio italia valevole per gli europei di under 21 e terminato con la vittoria dell'italia per 3 a 1 con vantaggio dell'italia al 44esimo cubarella raddoppio nel secondo tempo con cutrone e terzo gol di chiesa l'ottantanovesimo e gol sul 2 a 1 per l'italia di vescaren quanto l'italia ridominio della partita d'italia secondo me non è partita bene abbastanza confusa anche un po condizionata con il risultato della spagna dall'altra parte però quanto va in vantaggio appunto con barella al 44esimo si sblocca nel secondo tempo al 53esimo circa arriva il raddoppio dell'italia con bel gol di cutrone dopo a corte alle distanze verkmanen quando eravamo in dominio nel finale bellissimo gol di chiesa purtroppo non siamo ancora in semifinale l'italia perché dove eravamo condizionati nel risultato della partita tra spagna e polonia se la spagna vinceva fino a 2 a 0 l'italia finiva tutte e tre pari punti prima del girone andando in semifinale invece vincendo addirittura 5 a 0 la spagna che ha battuto la polonia la spagna finisce prima del girone l'italia non è ancora fuori potrebbe eventualmente passare come migliore seconda perché ripeto che si fanno direttamente le semifinali su tre gironi passano la prima per ogni girone se tre ne manca una e viene presa la migliore di la migliore di questi tre gironi però purtroppo guardato che negli altri due gironi c'è ad esempio a sei punti a pari punti sia la romania che la francia in quel girone all'ultima c'è proprio romania francia e se dovessero pareggiare tra di loro andrebbero tutte e due a sette punti ed andrebbero tutte e due in semifinale se non dovesse succedere spero per la sportività che vinca una delle due bisognerà vedere di questa dell'altro girone la seconda se farà sei punti bisognerà vedere con quale differenza rete adesso l'italia un po due insomma si dovrà attendere fino a lunedì per sapere se l'italia andrà in semifinale o no vi auguro un buon proseguimento di serata al vostro grande capitano napoli chi non si è ancora iscritto al mio canale iscrivetevi iscrivete al mio canale sempre comunque forza napoli italia che complessivamente comunque mi è piaciuta sempre forza napoli ciao